Un incendio che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il centro storico di Cassano all'Oionio. Sono passate da poco le 17 di ieri, quando i vigili del fuoco di Cosenza vengono allertati per un incendio in un'abitazione nel cuore del centro cittadino del centro ionico. Il tetto di un'abitazione era andato in fiamme e il fuoco stava via via ampliandosi, mettendo a rischio anche le abitazioni vicine. Queste sono le immagini girate durante l'intervento dei vigili, che è stato massiccio. Da Cosenza sono arrivate 4 autopompe e oltre 10 vigili del fuoco. Un intervento che è durato diverse ore, bloccando parte del centro storico, ma che ha permesso di evitare il propagarsi delle fiamme all'intera abitazione e a quelle vicine. I primi soccorsi sono giunti a Cassano Ionio dalla sede dei vigili del fuoco di Castrovillari con due mezzi e cinque vigili del fuoco. Ma c'è voluto anche l'intervento di altre squadre, da Rossano e Cosenza, per domare il vasto incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo tanta paura, ancora sconosciute le cause dell'incendio.